Faccio una recensione su Torino, 20 secondi. 20 secondi, beh, innanzitutto è la città della mia squadra. Io credo che Torino sia più affascinante, sia molto di più di quello che in qualche modo i non torinesi pensino. Quindi credo che abbia bisogno molto delle recensioni, magari meno in salsa piemontese, più in salsa magari romana, milanese, napolitana. Però io personalmente la ritengo una città un pochino più in linea col futuro rispetto ad altre altre città. Io sono romano ma vivo a Milano da 15 anni e credo che Torino, nonostante il suo passato glorioso, ma un po' impolverato, abbia invece oggi una maggiore sprint, un maggiore dinamismo, il design. Quindi ci vengo veramente sempre volentieri e la devo conoscere. Anzi, se tu hai qualche suggerimento ho bisogno di qualche advisor che mi aiuti su Torino. Benissimo, farò una recensione per Lorenzo Brufani su TripAdvisor. Assolutamente. Benissimo. Grazie. Noi ti ringraziamo molto e torna a trovarci a Torino ovviamente. Volentieri e forse a Juve. Grazie, ciao Lorenzo. Ciao.